Ciao ragazzi, queste sono le mie live reaction di Juventus Sampdoria, godetevevi! Palla larga verso la scosta, un nuovo controllo possibile, c'è anche la doppia libertatura di Barreto, un piaccoso dentro, cerca da Manzucic! GOOOOOOOL! Mamma mia ma questo è in forma Manzucic! Terzo vale in due partite! Bellissimo cazzo, bello! Se, dal nulla, è sbucato fuori proprio, è sgusciato via! A cercare che si cross, ma chi ha crossato? Durla scosta, che ha puntato subito due, ovviamente il radocchio di Barreto ci sta, ma lui in questo caso non tenta, non tenta questa palla, viene a girare... Loco verticale verso l'Ovenez, che appoggia, perché Lira, quindi durla scosta, si torna con il bacino, palla parmina! Ovenez! 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 Eccolo! Eccolo Lira! L'ho finito da dentro! L'abbiamo detto che stavamo a vedere! Ancora di Daga Scossa, c'è Maggio che sta da altra parte, c'è Quattrano con Badrini dentro, Daga Scossa, viene in fondo, Riappe, perché... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cosa ha fatto Daga Scossa? Tre assist! Tre assist! Cosa ha fatto qua? No, ma lo dici... Impressionante, impressionante! Cioè, li ha bevuti come... come sciottini, proprio... Inchia... Cioè, schieramento tedesco, oggi... Per vedere, schiettira... Tantissimo, tantissimo, dove ha scoperto... Qui... Via 1... Via 2... E poi... Finita! Finita! Ci fermiamo solo per una...